con il nuovo pavimento in ceramica del concafast la nostra casa è diventata bellissima e siamo tutti più felici lei finalmente non ci stressa più con le sue manie per la pulizia lui in casa è sempre stato indifferente a tutto ma a quanto pare è molto orgoglioso di del concafast in fondo è anche una sua creatura dopo aver studiato il posatore ha capito che avrebbe potuto farlo anche lui si è rimboccato le maniche e si è messo al lavoro bravissimo vedere la casa che sotto i tuoi occhi cambia aspetto dà una grande soddisfazione e tutto senza lo stress di doverla svuotare perché abbiamo spostato i mobili di volta in volta tanto con del concafast il pavimento è subito calpestabile e con del concafast abbiamo pure risparmiato l'idea di una posa in opera senza fughe colla o stucco è veramente geniale e se per una ragione qualunque decidessimo di toglierlo possiamo sempre rimuovere e recuperare il prodotto per sapere di più venite a trovarci al cersaio di bologna dal 25 al 29 settembre e al mad expo di milano dal 17 al 20 ottobre oppure visitate il sito delconcafast.com trovate del concafast solo dai riveditori autorizzati del concafast meno male che l'hanno inventato